Il decreto del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara sul dimensionamento scolastico porterà in Basilicata la riduzione del 24% dei plessi scolastici e alla conseguente soppressione di oltre 25 autonomie scolastiche. Una condizione che, oltre a creare disagi a studenti e corpo docente, rischierebbe di accelerare il fenomeno dello spopolamento, ma anche di condizionare l'economia di molti piccoli centri della Basilicata. Dunque è una misura che porterebbe più danni che beneficia la Regione, motivo per cui i presidenti delle province di Potenza e Matera, Cristian Giordano e Piero Marrese, hanno manifestato pubblicamente il loro dissenso. Il modo giusto per farlo è stato quello di chiedere un intervento della Regione, il luogo adatto, la sede dell'ente in Viale Verrastro a Potenza, assieme a studenti e circa una ventina di sindaci dei comuni di entrambe le province. Chiediamo alla Regione Basilicata di fermarsi, fermarsi nell'applicazione pedissequa di una scelta scellerata che proviene dal Governo centrale, ma che la Regione in qualche modo con l'applicazione delle linee guida che ha approvato rischia di dare il colpo di grazia al nostro sistema scolastico regionale. In un periodo storico in cui si discute tanto di spopolamento, cerchiamo di trovare delle soluzioni a quello che è il problema più grave che sta vivendo la nostra Regione, dall'altro lato diamo un duro colpo ai servizi che riguardano la nostra Regione. Rischia di esserci un taglio oltre che alle dirigenze, anche al personale ATA, ai posti di lavoro che riguardano le segreterie. Questo problema con una spada di Damocla per noi studenti, questa spada sta sempre più penzolando sulle nostre teste. L'accorpamento di vari plessi e di vari istituti creerebbe una disorganizzazione tale che si rischierebbe anche di perdere degli iscritti all'interno delle scuole. In più la disorganizzazione che comporterebbe tutto ciò farebbe anche perdere una forte identità locale anche dei piccoli paesi e delle piccole realtà che purtroppo si trovano ad essere accorpate ad altre grandi realtà.